Papà mi disse questo, quando nascerà la bambina, sapevamo che era una bambina, mi raccomando se io non posso porta a Sonia un mazzo di rose bianche. Va bene, va bene. Poi papà è morto, è nata Silvia e chi si è ricordato di queste rose bianche, onestamente? Quando è venuto maggio, sul nostro terrazzo a casa noi abbiamo un invaso con un cespuglione di rose rosse, sono fiorite tutte bianche. Ho chiesto al giardiniere se questa cosa fosse possibile, dice che è impossibile. E infatti la volta successiva hanno tornato a fiorire rosse, ma quella volta fiorirono tutte bianche.